e leo sto per scoprire chi è l'assassino dell'oriente express a sì la mamma mi ha detto che è il maggiordavo ma non te lo devo dire nicchi se continui così diventerai la protagonista di nuovo giallo ma nella parte della vittima illuso io se andi meno di te ti seppellirò e tu mi farai compagnia nicchi cos'è tutto questo entusiasmo lo stesso di chi salva la pelle in extremis ma stavate litigando giusto per tenerci l'allenamento andiamo a preparare la cena oggi il minestrone è no mamma il minestrone no ma guarda che mi verrà benissimo perfino ha deciso di metterci il ranuncolo sentirete che sa paura